Peter vuoi guardare Netflix? Sì certo guardiamoci uno special se ne fanno tanti saranno buoni no no chi Tom Segura no una donna cinese un'altra donna cinese no no Angela Johnson cacchio fanno uno special a tutti perché non a me anche a te questa è solo l'introduzione signor Griffin è in onda buonasera al pubblico del sim kitaka penso che potrei avere una bici sapete cos'è dring 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 ti prendo tutto sì penso che potrei